Dalla fine della storia con Chiara Ferragni, Fedez non ha certo perso tempo. Di recente è stato pizzicato con l'ennesima ragazza diversa in un locale. Chi è? Prima il flirt con Garance Otie, poi le voci sulla breve frequentazione con la modella Violetta Toloba, e quelle sulla passione con Taylor Mega, poi ancora le foto paparazzate insieme a Sveva Magatti, e ora Fedez si fa beccare con un'altra. A lanciare lo scoop ci ha pensato Gabriele Parpiglia che ha condiviso il video del rapper e della misteriosa ragazza sui social. L'ex marito di Chiara Ferragni si trova in Costa Smeralda, e in questi giorni ha passato una serata nell'esclusiva discoteca Ritual. Dietro alla console del DJ, Fedez appare abbracciato a una ragazza sconosciuta, mentre parlano, ballano e si divertono insieme. Non si tratta di nessuna delle persone nominata in precedenza. Dunque è possibile immaginare che l'estate focosa di Fedez non accenni ad arrestarsi. Chi è la ragazza a cui il rapper si avvinghia nella famosa discoteca Ritual? Gabriele Parpiglia ha diffuso il video tramite il suo profilo Instagram e, nemmeno a dirlo, questo è diventato virale in pochissimo tempo. Fedez ha una nuova fidanzata. Ecco le parole di Gabriele Parpiglia sulla nuova ragazza con cui è stato paparazzato Fedez. Discoteca Cancelletto Ritual, Cancelletto Sardegna. Intorno alle ore 4.06, dietro la Cancelletto Console, ecco Cancelletto Fedez avvinghiato a una nuova ragazza. Un nuovo flirt, sotto gli occhi dei presenti. Dopo le storie con Cancelletto Garance Ote e con la giovanissima modella Cancelletto Sve va adesso in Cancelletto Costa Smeralda e Caccia, da parte dei Cancelletto Reporter, alla nuova frequentazione del Cancelletto rapper, sempre più lontano da Cancelletto Chiara Ferragni ormai. Dalla fine della storia con Chiara Ferragni, Fedez ha fatto strage di cuori e non ha fatto nulla per nascondersi, anzi. Nel frattempo, anche la sua ex moglie è stata travolta dai pettegolezzi. Prima si è vociferato di una storia con un certo Andrea Biciotti, noto ortopedico toscano, poi si è invece suggerito che possa avere un flirt con un uomo molto più grande di lei. E ancora, a seguire, continuano le indiscrezioni sulla presunta frequentazione con Tony F.